Sistemata la questione coach con l'arrivo sulla panchina bianco-rossa di Luca Secchi, il volley soverato è alle prese con le ultime pratiche riguardanti la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie A2, la sesta consecutiva per il sodalizio calabrese, che scadrà alle ore 12 del prossimo 29 giugno. Contemporaneamente al tema iscrizione, la dirigenza guidata dal presidente Mattozzo e al lavoro sul mercato per allestire l'organico bianco-rosso, che sarà presente al prossimo campionato. Coach Secchi è in continuo contatto della Sardegna con la società di Via Battisti e le operazioni sono a buon punto. Si lavora anche sul tema riconferme, che in ogni caso saranno minime. Di sicuro non farà parte del soverato targato 2015-2016 la centrale Laura Frigo, volata a Bergamo in Serie A1 con la Foppa Pedretti. Difficile rivedere il prossimo anno anche il libero Sara Paris e l'opposto Veronica Minati. Pochissime speranze di riconferma pure per la schiacciatrice Aluigi e l'alzatrice ceca Smutna. Tutto fermo invece in casa Golem Palmi, almeno ufficialmente. Sotto banco il club Regino starebbe lavorando alla conferma dei pezzi pregiati del roster che ha raggiunto la storica promozione nella massima serie. Grazie per la visione!